I 700 anni del monastero di San Basilio sono un evento eccezionale che sarà celebrato con diverse iniziative e momenti di cultura nel convento delle Celestine. Dal 22 al 29 agosto si parlerà del ruolo delle suere di clausura, delle loro moltiplice attività, del monastero, dell'impegno in missione alle attività più locali con la loro piccola legatoria famosissima. È un fatto storico eccezionale quello di poter dire da 700 anni, 700 anni e qualche mese, un'attività socio-religiosa non ha mai cessato di funzionare, di vivere e di funzionare. E 700 anni di vicende che hanno distrutto, interrotto, danneggiato iniziative del genere ce ne sono state a Iosa. Quindi vorrei dire che già soltanto il dato numerico fa capire quanto sia giusto fare questo ricordo. Quali sono le attività che le suore ancora portano avanti oggi, che sono molto importanti? Ovviamente, considerando che lo sviluppo di questa storia, al di là del mantenimento dello spirito della clausura, permette alle suore di clausura di fare anche altre attività, tra queste attività sono rilevantissimi i loro impegni in terra di missione. Lo dice uno che molti anni fa ha cominciato a far lavorare queste suore in difficoltà economiche notevoli in un'attività professionale, io ritengo, che ancora oggi loro conservano e probabilmente ancora praticano il restauro librario. Il monastero di San Basilio è il più antico della città, fondato nel 1320. Attorno al monastero è nato un comitato spontaneo composto anche da università e tantissimi altri partner. Le suore sono state le prime eroiche abitanti della zona rossa, perché già nel 2009 sono state sistemate in un container nell'area dentro al monastero, prima di rientrare nel convento, di cui alcune parti sono ancora in restauro. Il giornalista Angelo De Nicola ha mostrato alcune stanze del convento. Gli appuntamenti sono diversi, in un convegno si parlerà del ruolo del monastero dalla nascita sino ad oggi, ma ci saranno altri appuntamenti legati al recupero e al restauro del monastero, presentazione di libri, spettacolo sul perdono, iniziative di solidarietà. La Croce di Celestino quest'anno andrà al maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico della perdonanza. Il monastero dal 24 al 29 agosto sarà aperto alle visite tutti i giorni con prenotazione.